allora con una me del futuro perché vi spiego questo lo può mostrare appunto la night routine e solitamente è questo quello che faccio però delle volte vado a fare anche le unghie la sera quindi volevo mettervi anche questa clip e sono uscite super belle perché le ho fatte di un biancolatte così adesso giro la telecamera e ve le faccio vedere e dopodiché vado in palestra inizia tutto il resto e ora mi preparo e vado in palestra comunque sono queste le ho fatte ballerina ecco di questo biancolatte che adoro non mi stancherà mai e ora mi preparo a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Con questa bocciottina dei coloniali vorrei utilizzarla per decorare un po' qualcosa, la mia camera, magari dei fiori, sarebbe molto carina. Questa è la mia super cena, non sembra bella ma sono dei bocconcini di pollo con curcuma e soia, quindi consiglio. Sono super buoni, sono anche morbidi e ovviamente qua me li gusto per bene. Ovviamente sono tornata a casa a mangiare, non sono rimasta nell'altra casa per chiarire. Voglio fare un po' di skin care con questi prodottini che mi hanno regalato a Natale e non sono ancora riuscita a provarli decentemente. Quindi crema a viso, crema occhi, il classico olio e questo è un clean, però ho già usato il mio prima, quindi ne struccarmi. Quindi per ora userò questi tre prodotti, anche se questo è quello che mi ispira di più, però sulla vasca e quindi l'ho visto dopo quando mi ero già struccata eccetera eccetera, quindi per ora userò questi. Non mi scuso per la qualità ma purtroppo è quella che è. Appunto ho fatto la mia detersione, ora volevo provare questo famosissimo olio che tutte hanno super, non lo so, acclamato. Il siero Advanced Night Repair, quello super famoso che dicevano facesse miracoli. Ha un odore abbastanza piacevole, non troppo. Sono andata in montagna questo weekend, ho le labbra super screpolate. Devo provare il contorno occhi e la crema ovviamente. Della stessa linea, ovviamente vi saprò dire non ora. Super stanca, vediamo se questo effetto osceno me lo toglierò. Perché io ho la pelle grassa ma ho bisogno di idratarla in questo periodo, cioè in questi giorni perché appunto sui stati in montagna c'era un vento pazzesco e me l'ha seccata tutta. Sembra tipo una boccettina di miele, è super bella. Anti-Age, c'è il Power Cream. Devo capir bene cosa contiene però ne ho sentito parlare molto bene. Wow, è proprio bella, idratante, si sente tantissimo. Poi la pelle è tutta rovinata da mascherina, bene. Adesso mi guarderò qualcosa alla tele, non so neanche ancora cosa ma non ho tanto sonno stasera, strano ma vero. Devo sistemare un po' la vagina del weekend della camera ma lo farò addirittura nel prossimo weekend. Anche se sarò via. Vabbè, venerdì sera posso tranquillamente farlo se non esco e basta. Mi metto su un po' di burro cacabra così è improponibile. Ovviamente metto questo della Connectivin. Comunque ho fatto un casino per comprarmi la cover, sapete quella del telefono, la cover rosa dell'iPhone. Che poi me l'avevo andata sbagliata, ero ritornata a prenderla, eccetera eccetera. Sono andata a comprare una nuova perché appunto non volevo andare a giro senza cover. Non l'ho ancora messa. Ormai è quasi un mesetto che ho il telefono. Ma sull'iPhone X Max mi piaceva quella rosa, su questo un po' meno. Però voglio iniziare a usare anche perché 55 euro di cover è un po' too much. Mi sveglia presto perché ovviamente si va a lavoro. E vabbè, adesso mi guarda un po' qualcosina di easy. Solitamente dovrei sistemare anche tutto questo casino. Ma non riesco perché ho 3000 robe. Da fare e quindi alla fine non riesco mai. Ottimo. Poi un'altra cosa che faccio è sistemare magari le robe per YouTube. Questo è il mio canale, More Love. Se volete iscrivervi. Quindi sono qua nel letto con questa atmosfera che adoro. E quindi anche qua sistemo un po' i video. E ci passo un po' di tempo, direi. Infine io mi leggo sempre i capelli perché per andare a dormire mi li leggo. Mi raccomando, legateli. Questa cosa vi cambia la vita perché vi sveglia i capelli più in ordine. E non torcigliati e tutti crespi. Quindi fatelo. Basta io questo video lo concludo qua. Spero vi sia piaciuto. Ci vediamo presto in un altro video. Ciao!